Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo video dove parleremo di come ottenere più recensioni su Amazon. Ma prima di entrare nello specifico di questo video, parliamo innanzitutto di che cosa sono le recensioni, perché sono importanti, da che cosa si differenziano rispetto per esempio ai feedback, perché sono importanti i feedback in certe situazioni, perché sono più importanti ad esempio le recensioni in altre, come si accumulavano in passato le recensioni, come invece si accumulano adesso le recensioni, soprattutto bisogna capire anche cosa non bisogna fare e cosa comporta se facciamo determinati aspetti contrari alla policy di Amazon e come reagisce Amazon a queste attività contrari alla policy di Amazon. Come vediamo innanzitutto da questa ricerca presente su Amazon, qui sono indicate chiaramente il numero delle recensioni, numero di recensioni che sono assolutamente molto importante come sappiamo per dare il social proof e cioè quindi indicare che quel prodotto è stato comprato da tante persone e quindi la persona che vede che questo prodotto è stato comprato da tante recensioni, da tante persone e ha avuto comunque un risultato positivo, ha riscontrato un risultato positivo, questa persona sarà più propensa a cliccare sulla pagina prodotto, sarà più pensa ad entrare a leggere la nostra pagina prodotto, sarà più propensa poi sufficientemente a fare l'acquisto. Quindi per ipotesi prendiamo, clicchiamo e entriamo in questa pagina prodotto qui. Questa pagina prodotto qui ha un rating che non è molto molto buono insomma. Questo prodotto qui poi nel caso è venduto e spedito da Amazon e quindi in questo caso non si può valutare eventualmente se ci sono un contrasto tra le recensioni e il feedback. Ma come possiamo vedere questo prodotto è venduto anche da altri venditori, quindi basta che clicchiamo qui e possiamo vedere ad esempio quali sono i feedback degli altri venditori. Facciamo un esempio concreto di questo. Questo è un venditore terzo come potremmo essere noi, non un venditore che ha un account vendor quindi e ha un numero molto veramente molto elevato di feedback nella propria vita. Che cosa sono i feedback? I feedback sono un commento rispetto a quello che è stato il processo di vendita da parte del venditore. Quindi se il pacco riato è integro, se c'è stato per esempio contatto da parte del venditore nei confronti del cliente nel caso ci fossero stati problemi, se li ha risolti e quindi tutta una serie di cose che attengono all'esperienza di acquisto del cliente su Amazon stessa. È un aspetto molto importante questo, i feedback sono un aspetto molto importante soprattutto nel momento in cui si fanno retail, cioè si rivendono prodotti degli altri. Più avete feedback positivi, più Amazon considera il vostro account come un venditore professionale, un venditore che è affidabile, che ha prodotti in stock, che tratta bene i suoi clienti e quindi è facile nel caso in cui entrate in concorrenza con altri per prendere, per ottenere la buy box, che abbiate la possibilità di poterla ottenere anche ad esempio se spedite attraverso la logistica vostra, piuttosto che la logistica di Amazon, in concorrenza per esempio con nuovi venditori. Come in questo caso qui è un venditore con un profilo piuttosto importante, insomma con un numero di recensione a vita piuttosto importante e questo sicuramente peserà nel sistema di Amazon, nell'algoritmo di Amazon, perché se questo venditore si collega a una pagina prodotto è molto probabile che se non ha commesso particolare violazione delle policy negli ultimi giorni, ottenga la buy box. Come capite questo punto qui è un punto dove vedo la bontà del mio servizio, ma nell'ambito della vendita del mio singolo prodotto, nell'ambito della vendita quindi della, ritorniamo qui ad esempio del tappetino yoga che stavamo per appunto analizzando, il venditore non guarda i feedback oppure li guarda, il compratore scusatemi non guarda i feedback ma li guarda in maniera residuale dopo per verificare ad esempio che sia un buon venditore. Invece per verificare la bontà del prodotto il compratore cosa fa? Scorre e guarda per appunto le recensioni che sono state date oppure può guardare semplicemente la somma delle recensioni e dei voti che sono stati indicate. Allora bisogna sottolineare un aspetto molto importante sul fatto che nel momento in cui decidete di creare un prodotto su Amazon, caricarlo e venderlo, non pensate mai di creare quello che si può dire una ciofeca, cioè un prodotto veramente che andate a fregare la persona che lo va a acquistare. Questo perché è vero che potete drogare in maniera contraria alle policy di Amazon e che può portare il blocco dell'account, sospensione dell'account o addirittura denunce le recensioni e i voti. Ma quello che succede è che quando inizieranno ad arrivare le recensioni e i voti organici il vostro prodotto otterrà solo recensioni e voti mediocre. Allora in quel caso lì state molto attenti che è giusto sì nel momento in cui si progetta un prodotto guardare dove si può risparmiare ma è molto importante perché il target price che andate a definire che il prodotto abbia la qualità e la durevolezza, ok? Il prodotto quindi la capacità di durare nel tempo adatta per quel target price che avete in mente e che volete inserire all'interno del mercato. In passato come si ottenevano queste famose recensioni? Innanzitutto in passato c'erano solo le recensioni, non c'erano i voti, quindi c'è la possibilità solo di scrivere il commento ma non c'è la possibilità per esempio di lasciare semplicemente le famose stelline. Semplicemente si chiedeva attraverso la messaggistica di Amazon, la compilazione a una serie di mail attraverso la messaggistica di Amazon, la possibilità di lasciare un commento possibilmente positivo all'interno sulla pagina del prodotto. Addirittura si era scoperta questa tecnica che si decideva di prima chiedere il feedback al cliente. Se il feedback era positivo il sistema dava la possibilità di poter chiedere poi successivamente alla recensione in modo che arrivassero al nostro prodotto solo le recensioni positive, quelle dei clienti per appunto soddisfatti. Se un cliente lasciava un feedback negativo o non tanto lusinghiero cosa succedeva? Si bloccava lì, si inseriva il filtro di questo feedback negativo e quindi non si inviavano più mail attraverso la messaggistica di Amazon su questo tipo questo tipo di cliente. Attualmente non è più possibile fare così. Una volta addirittura c'era un sistema di scambio di recensioni, di acquisto di recensioni piuttosto importante. Neanche adesso non è più possibile farlo così. Questo perché Amazon sta scoprendo e ha scoperto tracciando i dati, incrociando i dati questi sistemi qui. Ha bloccato società che facevano centinaia di milioni di euro di fatturato. Ma che cosa facevano queste società qui? Erano società nell'ambito elettronico che poco tempo fa hanno fatto un grande scalpore e loro, a titolo esemplificativo, quando vendevano un prodotto a te ti inserivano un inserto, ma non un semplice inserto in cui ringraziavi la persona ad esempio di aver acquistato, di dare possibilità di stendere la garanzia o altre cose, insomma dei bonus, ma bensì gli davi la possibilità di ottenere uno sconto veramente molto importante, come in questo caso qua di 35 euro, 35 dollari scusatemi, se inviavi una mail a questa mail qui, indicando il tuo numero d'ordine e l'urla della recensione, della recensione positiva. Capite che la conversione delle recensioni è una conversione in questo caso molto elevata, recensioni positive perché comunque 35 euro non sono assolutamente pochi, solo che Amazon ha scoperto questo sistema e Amazon che tu sia piccolo, che tu sia grande, quando cerchi di truffarlo per l'appunto ti blocca. Infatti quello che è successo è che moltissime, alcune delle società cinesi che adottavano questo sistema nel mondo dell'elettronica e che avevano ottenuto dei risultati veramente molto importanti con Amazon sono stati bloccati i prodotti e addirittura anche gli account sono stati bloccati che adesso non possono più vendere se non all'esterno di Amazon. Quindi se vuoi fare questa fine qui è molto importante seguire le policy di Amazon. Le policy di Amazon che cosa prevedono? Le policy di Amazon innanzitutto prevedono che tu non solleciti la richiesta della recensione, prima cosa. La puoi sollecitare solo in un certo modo, solo entrando nel tuo account, solo entrando nella lista degli ordini e semplicemente cliccando la possibilità del tasto di poter quindi inviare la mail automatica di richiesta della recensione attraverso Amazon. Ovviamente questo sistema qui è un sistema sicuro che ti permette indubbiamente di ottenere risultati, di ottenere recensioni. Si può essere parzialmente scalato ad esempio come le estensioni di Jungle Scout o ad esempio con le estensioni di Capitano AMZ. Cosa succede? Succede che nel caso di Jungle Scout clicco qui, ho la possibilità di chiedere la recensione a tutti gli ordini che sono stati fatti in maniera pregressa. Oppure posso utilizzare Capitano AMZ e quindi programmare quello che è semplicemente l'automatismo del cliccare il tasto della richiesta per appunto della recensione. Ma Amazon non si ferma qui, ci dà anche inoltre infine la possibilità di poter ottenere le recensioni in maniera assolutamente legale direttamente all'interno del sistema di Amazon stessa. Cioè Amazon ci dà degli strumenti che ci permettono di avviare il nostro account, di ottenere quel social proof in maniera assolutamente legale e questo sistema si è il sistema delle recensioni tramite Amazon Vine. Brevemente se tu hai un marchio registrato hai la possibilità di poter mettere a disposizione un numero di prodotti fino a 30, ok? Per quanto riguarda il mercato italiano dove i recensori Vine riceveranno questo prodotto a livello gratuito e avranno la possibilità in generale di lasciarti una recensione. Recensione che potrà essere positiva e molto bella con dei video, con delle foto che convertono molto se il tuo prodotto è di alta qualità. Se invece il tuo prodotto è mediocre, comunque loro non ti lasceranno una recensione positiva, ti lasceranno una recensione per l'appunto mediocre. Pertanto state molto attenti nel caso in cui utilizzate questo strumento di Amazon, se avete un prodotto buono vi consiglio assolutamente di utilizzarlo. Se avete un prodotto mediocre e volete lanciarlo su Amazon, prima cosa, prima avvizzazione che dovete fare, dovete pensare ne vale la pena lanciare questo prodotto mediocre su Amazon? O è meglio evitare di lanciare questo prodotto qui? Sicuramente se sapete già che è un prodotto mediocre, evitate di utilizzare il sistema Vine all'interno di Amazon stessa. Pertanto ricapitolando questo video qui, sono molto importanti a tenere le recensioni e i feedback. Le feedback sono molto importanti nel caso in cui tu rivende i prodotti perché hai la possibilità di competere per la buy box. Per quanto riguarda invece le recensioni, sono importanti perché danno social proof, cioè ti permettono di dimostrare che il tuo prodotto è venduto, questo facilita le conversioni della tua pagina di prodotto, le conversioni delle tue pay per click, quindi hai un abbassamento dei costi promozionali relative al sistema all'interno di Amazon. Sono importanti sia i voti, sono molto importanti sia le recensioni stesse, quindi le scritte, e più la recensione è fatta bene, nel senso più la recensione ha un video, la recensione ha uno settore importante che metta in evidenza gli aspetti quindi positivi che il mercato cerca all'interno del tuo prodotto, sicuramente questa recensione ti aumenterà a convertire sempre di più i clienti che entrano, che vedono la tua pagina prodotto, che leggono la recensione e quindi poi allo stesso tempo rigenerano altre vendite a loro volta. Bene ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando, se avete qualche domanda scrivetelo nei commenti, iscrivetevi a questo canale, cliccate like e come vi divertete questo video con gli amici. A presto!